I tinerari sono percorsi di conoscenza e scoperta del grande valore di un territorio, spesso nascosto anche a chi ci vive da sempre. I tinerari sono mappe di orientamento verso le tenaci aziende locali, frutto di coraggio e tradizioni familiari. I tinerari sono tracciati di memoria in cui la storia, la tradizione e la cultura della comunità diventano identità personale. I tinerari sono la rappresentazione di un legame profondo tra le persone e la loro terra. I tinerari sono solchi dove l'amore per il passato si innesta nel bisogno del futuro. I tinerari è il risultato di un lungo cammino, fatto insieme da un gruppo di amici. È incontro e racconto di amicizie, passione per la propria terra ed impegno per la comunità. È incontro e racconto della bellezza delle proprie montagne, della particolarità delle sue rocce, dell'unicità del paesaggio. È istinto a guardare lontano, la ricerca di nuovi orizzonti, legami ed amicizie. È la temerarietà dell'avventura, per condividere scorci inediti e paesaggi sublimi. È il contatto con la suggestione della montagna, attraverso l'armonia, della musica. È un senso di comunità vissuto attraverso la storia, l'arte e le tradizioni del proprio paese. E poi il sisma, travolti come tutti dai brandelli di un'umanità ferita. E la continuazione di un racconto, la solidarietà degli amici, l'emozione di un artista, il valore della speranza. Il rafforzamento delle radici, dei valori, di identità culturale e sociale. Non chiudersi nella propria tragedia, ma percorrere il solco della solidarietà e condivisione interterritoriale. L'orgoglio delle proprie tradizioni e l'impegno della trasmissione alle generazioni future. Il blog Itinerari. Un percorso di condivisione tra passato e futuro, tradizione e innovazione.